Il Parlamento ha appena approvato un decreto voluto dal Governo sulla situazione del sovraffallamento carcerario e il giorno dopo averlo approvato Nordio ha detto ho delle idee per ridurre il problema del sovraffollamento e ne parlerò con Mattarella. Ecco, una dichiarazione del genere dimostra come quella del Governo sia fuffa spaziale. Il Governo Meloni è un Governo di fuffa. Non usa mezzi termini il leader d'Italia Viva, che nel giorno di Ferragosto ha deciso di recarsi in visita insieme al deputato Roberto Giacchetti al carcere di Sollicciano di Firenze, al centro della bufera politica, dopo che l'ennesimo suicidio di un detenuto e la rivolta che ne è seguita hanno rimesso al centro delle cronache la faticenza nella quale vivono i carcerati e lavorano le guardie della Polizia Penitenziaria. La direttrice di Sollicciano, un paio di settimane fa, è anche stata raggiunta da un provvedimento del DAP per incuria e abbandono con l'intimazione di risolvere i problemi del carcere fiorentino entro 90 giorni. Italia Viva, ha detto Renzi, sottolineando la funzione rieducativa del carcere, continuerà a combattere per la doppia linea, cioè da un lato avere carcere in grado di accogliere detenuti e allora occorre investire nell'edilizia carceraria, dall'altro aggiunge, non è giusto che una persona stia in custodia cautelare senza che vi sia la necessità della custodia cautelare. Giacchetti, che ha presentato una proposta di legge per intervenire sul sovraffollamento, ha un'idea precisa. Io, quindi togliamo chi è qui, continuo ad affermare che la strategia del governo nel non intervenire sul sovraffollamento è finalizzata a fare in modo che esploda la situazione e poter avviare un'azione repressiva attraverso la quale sono già organizzati, perché hanno già creato i reparti operativi dentro la Polizia Penitenziaria contro, hanno messo nel decreto sicurezza il reato di resistenza passiva, cioè chi non fa aggressioni dentro il carcere ma rifiuta il cibo è penalmente perseguito esattamente come chi fa le aggressioni. Quanto al futuro di Sollicciano, la struttura andrebbe demolita e rifatta, secondo Renzi. Assolutamente sì, Sollicciano andrebbe buttato giù e rifatto. È una struttura che non consente il controllo da parte degli stessi agenti di Polizia Penitenziaria e poi cade a pezzi, è caduto un pezzo del muro, il muro!